Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, oggi è un video spesa, siamo andati a fare la spesa da Eurospin e da Wawa per domani che è appunto Ferragosto, siete a comprare delle cose per questi giorni E niente, adesso vi faccio vedere cosa abbiamo comprato, ci sono anche delle cose che ho messo nel freezer, quindi ve le farò vedere per ultime Adesso sistemo un po' sul tavolo e poi partiamo subito perché come potete vedere ci sono un po' tante borsine, quindi ecco, torno subito Allora, partiamo subito, ho preso una confezione di salamelle di suino, 4,16€, poi una confezione di salsiccia da 5,38€ Una confezione di bracciole da 4,29€, non riuscivo a capire quante ce n'erano, perciò io ne ho presa Un'altra confezione dove si vede benissimo che ce n'è due da 2,46€ e quest'altra dove si vede chiaramente che ce ne sono tre da 3,76€ E poi vedremo quando apriremo Poi, 4 pacchi doppi di questi viuster qui, pollo, suino e tacchino che sono senza glutine Le pile, queste qui piccole, le mini stilo Poi, della carne trittata, ho preso macinato misto di bovino e suino, questo qui da 2,16€ Questo da 2,30€, questo da 1,93€ e quello lì da 1,70€ E poi, 4 confezioni di hamburger, questi qui di suino senza glutine che andiamo a mangiare stasera per cena Poi, 6 confezioni di pappe per i gatti, vari gusti 2 tiramisù senza glutine, di questi qui della maestra e anche senza lattosio 3 sacchetti da 15 pomodori, l'uno che più o meno sono 2 kg 2 barattoli di maionese Che, come sapete, è senza glutine E poi, dell'insalata in busta, ho preso la pan di zucchero I cuori di iceberg e poi lì c'è lattughino e valeriana Poi, come pane, non c'era più pane fresco Quindi, abbiamo preso 7 confezioni di pan bauletto integrale E 3 di questo filone a fette con farina di segale E poi, 6 pacchi di mozzarella Che, vabbè, non è che andiamo a mangiare tutti domani Però, li mangiamo anche stasera, nei giorni a venire Però, ne ho presi un po' e così li teniamo lì Perché, comunque, la mozzarella ci piace Poi, metà a testa al giorno è la quantità di grassi che possiamo mangiare E quindi, visto che piace tanto la mozzarella Prendiamo la mozzarella Poi, abbiamo preso 2 confezioni di acqua naturale Questa qui, Ginevra E invece, poi, per, diciamo, festeggiare Perché, di solito, non la prendiamo E le bibite Cioè, a loro piacciono Ma io preferisco non Non prenderle, non berle Allora, per fare, tipo, qualcosa di diverso Per avere qualcosa con cui festeggiare Ho preso l'acqua friggiante Questa qui, sempre a Ginevra E poi, abbiamo preso anche un pacco di potate Perché volevo farle Non mi viene la parola di come si dicono Al cartoccio Ok, c'è ancora della roba Adesso ve la faccio vedere Poi, abbiamo preso i fichidiglia Io li stra-adoro Da sempre Cioè, proprio quando arriva la stagione dei fichidiglia Preparatevi, perché come frutta In ogni spesa che andrò a fare Voi vedrete i fichidiglia Perché io li amo Piacciano anche i bambini A Maurizio, così cosa Li devo sbucciare Perché Non riesce tanto Però, comunque, se li sbuccio Li mangio anche lui Poi, i pannolini per Pia Una confezione Poi ho preso Lo yogurt da bere Questo qui ha la banana Piccolino E poi le bambine Vi lascio la foto qui Se riesco a trovarla Su internet Si sono prese anche Le Kinder Fettalatte Dell'Eurospin Poi abbiamo preso Una salsa barbecue Si fa fare il barbecue Senza la salsa barbecue Solo che questa qui Non è senza glutine Quindi adesso Devo vedere un attimino Sul prontuario Se la possono mangiare Anche Maurizio e Gabriele Poi abbiamo preso Due caschettini di banane E i viustel Quelli grandi Due confezioni da 12 Che sono, come vedete Senza glutine Appunto, da fare Sulla braccia domani E per quanto riguarda L'Eurospin È tutto Vi lascerò qui adesso La carrellata Dello scontrino E ora Vi faccio vedere Quello che abbiamo preso Da Wawa Dello scontrino La Wawa Cosa ho preso? I tappi per i barattoli Perché devo fare ancora Della marmellata La devo fare di pesche E un'altra marmellata di pere Quindi ho i barattoli Ma non avevo più i coperchi Perciò li ho presi Poi Un pacco di salviette Queste qui Baby 2000 L'Aloe Vera Che sono un prodotto italiano Senza alcol E poi Ecco Ho fatto cadere una cosa Baby Lindo Con olio d'argan Io veramente le adoro Io veramente le adoro Aspettate E poi L'accendifuoco 48 tavolette Che ci servono per domani Delle mascherine Perché comunque Da settembre Le dovranno indossare Per andare A scuola E quindi Le ho preso Queste qui Che Queste sono abbastanza carine Ma non mi piacciono tantissimo Sembravano più belle Viste Dalla foto Queste invece Sono semplicemente nere No Queste qua Sono queste Che Qui dai lati Sono aperte Per metterci la garza E Questa invece Nera Così Semplicemente Mascherina nera Mi piace un sacco E queste qua Invece le ho prese Tutte e due blu E Le ho prese Due così Tutte e due nere Poi Mi hanno preso I pennelli Per le braciole Principalmente Perché la salsiccia Fa già Di suo Le pinze Per Prendere Poi le cose I bicchieri Ho preso una confezione Da 100 Così domani Non sporchiamo bicchieri Non ho preso i piatti Perché Mi spiace Perché sono quelli Di plastica I bicchieri E Non ho guardato Che fossero quelli Di carta Però Vabbè Mi perdonerete Per una volta E I piatti Invece Usiamo I piatti Poi abbiamo preso Il barbecue Perché non lo avevamo E Perché C'è una storia Anche sotto Su Ferragosto Su quello che è successo Un po' di anni fa Per chi ci segue Su Instagram Ha già letto Cos'è successo A Gabriele Per voi Invece Poi Un Farò un video Dedicato Per raccontarvi Quello che è successo Non è una cosa Bella Insomma Però per fortuna Poi E' andata bene E poi Abbiamo preso La carbonella Perché Sennò come facciamo E niente Adesso vi faccio vedere Cosa abbiamo preso Senza glutine Come pane senza glutine Purtroppo Siamo andati oggi pomeriggio Quindi era già andato Quasi tutto Siamo riusciti a trovare Due confezioni Di pan bauletto Integrale Della Nutri Free E due confezioni Di pan bauletto Bianco Sempre Della Nutri Free Quindi poi Dopo Ferragosto Lunedì Andrò Di nuovo In parafarmacia Vediamo se ne troviamo Dell'altro Questo è tutto Il video è finito Io spero Che vi sia piaciuto Se è così Lasciate un like E iscrivetevi al canale Mi raccomando Di attivare La campanellina Per non perdere I nostri prossimi video Ciao 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 Ciao